E' una serata speciale, è una serata per aiutare l'associazione Amici di Stefano Turchi. Allora si sono ritrovati tutti gli ex giocatori del Prato per dare una mano al compagno ammalato di SLA che non ha assolutamente voglia di mollare. E' una serata a chiare tinte bianco-azzurri. Abbiamo un ospite d'eccezione questa sera, provate a indovinare chi? Stefano Turchi. Ciao, buonasera, benvenuto e più che altro questa è la tua serata perché tutti i tuoi ex compagni di squadra hanno voluto esserci per ritrovarsi ma anche per ricordare delle pagine bellissime del calcio pratese. Allora, veramente ogni anno che passa è sempre più difficile ringraziare questi ragazzi. Si parla di tanti anni fa, forse gli anni più belli anche del Prato Calcio ho dei ricordi incredibili, sono cresciuto a Prato, devo tutto al Prato, quel poco che ho fatto lo devo esclusivamente alla famiglia del Prato, quindi questi ragazzi tengono vivo l'amicizia e la nostra associazione che ne ha bisogno come pochi. Abbiamo ritrovato nell'archivio di TV Prato anche dei tuoi gol che sono davvero splendidi insomma, c'è un tuffo al cuore anche perché vedere Turchi segnare non era una cosa così frequente. Allora, io me li ricordo tutti i gol perché ne ho fatti pochissimi, quei pochi li ho fatti quasi tutti al Prato si parla di 5-6 gol in tutta la mia carriera, quindi io la porta non la vedevo, ero più un uomo di fatica però quei pochi gol che ho fatto sono stato anche fortunato che sono stati dei gol fortunosi però anche belli. Credo e spero che questa nuova società a cui faccio un in bocca al lupo enorme, i pratesi, la curva del Prato, la gente di Prato e Prato Calcio meritano palcoscenici migliori, meritano una piazza, una categoria importante e secondo me se la società trova un suo percorso importante la città risponderà alla grande perché io mi ricordo il lungo Visenzio strapieno e mi viene ancora brividi al pensiero, quindi mi piacerebbe rivedere lo stadio così. Un saluto grande a Pratesi e a Prato Calcio.